ITL, Italian Technology Lab, è uno spin-off dell'Università degli Studi di Brescia che si occupa di sviluppo di nuovi prodotti basati sull'impiego di polimeri o elastomeri. La vocazione iniziale della società è orientata nello sviluppo di prodotti di device biomedicali e competenze che vanno dal design all'ingegneria meccanica e all'ingegneria dei materiali.